Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Catania riabbraccia la sua padrona Sant'Agata per le celebrazioni estive. Oggi l'apertura del sacello, le sacre messe e la processione intorno alla cattedrale. Svolta sulla sparatoria di San Berillo a Catania, la polizia di Stato ha eseguito l'arresto di Giuseppe Concetto Piterà e Mario Leonardi, già detenuto. Entrambi sono accusati di tentato omicidio aggravato, porto a illegale detenzione di una pistola. Tragedia isola delle femmine in provincia di Agrigento, un 21enne ha perso la vita a seguito di un improvviso malessere mentre si trovava in acqua, vano ogni tentativo di rianimazione. Si celebreranno domani pomeriggio funerali del piccolo Samuele Alfio Erba di due anni, morto annegato nella piscinetta di casa a Santa Venerina mentre giocava con un'amica. Indagata la nonna per omicidio colposo. Bloccato Peschereccio Tunisina Lampedusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il giudice per le indagini preliminari ha anche convalidato il fermo di indiziato di delitto per tre membri dell'equipaggio. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19.30. Arrivederci!